Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise, oggi a noi andremo a parlare di quali sono i migliori martelli del gioco, vi ricordo che sul mio sito ci sono i set per tutte e quattordici le armi, quindi potete andare a vedere da lì, lo scopo di questo video è informarvi su quali sono le migliori armi alto grado, quindi in questo caso i martelli, i migliori martelli alto grado, e quali sono le migliori abilità armatura da giocare e perché, quindi facciamo anche quel discorso lì immediatamente. E niente, quindi iniziamo. Questo qua non c'è un po' l'opposto, cioè non useremo praticamente armi furia, oltretutto per quanto riguarda il martello, e giocheremo martelli critici, ok? Non possiamo permetterci di giocare evasione in alto grado, quindi giocheremo l'arma proprio nel suo modo più puro, quindi punto debole, il più alto possibile, poi occhio critico, quanto basta per arrivare al 100% d'affinità e poi bonus attacco ragazzi, chiaramente con strato protettivo 2, quando possiamo permettercelo, questo seguito da bonus attacco, perché è la terza, chiaramente la quarta abilità che è in lista, è tra le più importanti. Quindi, score molto semplice. Infine, bonus critico, quindi se abbiamo almeno attacco 4, poi possiamo portare bonus critico, che ci aumenta comunque notevolmente i danni, però per fortuna, per favore ragazzi, portate prima attacco a livello 4, prima di bonus critico a livello 3, è più importante avere attacco 4, vi fa fare più male con i set. Ho fatto calcoli su tutto quanto, cioè a livello di consistency è di più. Comunque, specialmente sulle armi a più bassa affinità. Comunque, il migliore martello in assoluto, questo qui lo usano praticamente tutti quanti, è quello di gosso, chiaramente è un po' un giro alla ruota, e io personalmente preferisco quello di narga, a volte, per quello che fa più male, ok? Cioè, chiaramente è il danno è quel che è, ed è altissimo, c'è anche un po' di ghiaccio, però a parte affinità negativa. Quello di narga è il martello più flessibile, ancora una volta, oltretutto ha 45% affinità, vuol dire che con occhio critico 1 state a posto, avete occhio critico 1, punto debole 3, e poi tutto il resto che potete mettere sono abilità di utilità. Quindi qua, effettivamente entra in gioco, ah ma voglio giocare evasione stesa, o voglio giocare evasione in generale, quindi perché voglio giocare meglio, con questo martello potete farlo, perché, ripeto, le armi di narga non sono mai le migliori, ma sono sempre le più flessibili, quindi comunque giocatele, e oltretutto le sbloccate super presto nel gioco, quindi potete craftarle molto presto. Poi, martelli che consiglio? Narwa, chiaramente, all mother per quanto riguarda tuono, avete il colosso da ora per quanto riguarda ghiaccio, avete il martello di Valstrax per drago, quello di Camilos per veleno, molto alto, ho deciso specificatamente questo martello qui, perché ha le statistiche molto alte, ha anche la bianca, quindi un'acutezza naturale molto alta, e giocherete stato protettivo, quindi chiaramente potete mantenere quella bianca lì. Per fuoco abbiamo Ratelos, per acqua abbiamo Almudron, oppure Mizzuzione, dipende se state andando contro un mostro molto debole a acqua, o moderatamente debole ad acqua. Sempre per tuono abbiamo il martello di Zinogre, perché questo è antiacquatico, chiaramente ragazzi, quindi ogni tanto ve lo metto alla menzione ad onore. Per fisico, 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 senza elemento c'è la Digrex, che chiaramente può mantenere la bianca, e il martello di Digrex in bianca fa più male del martello del Goss, chiaramente un po' meno flessibile, ha anche un'affinità leggermente più bassa, però, ripeto, danno sul danno effettivamente è un po' più alto. E infine, appunto, abbiamo i martelli Furia, che come ho detto, praticamente non lo usiamo mai, ma se proprio volete giocare un martello status normale per paralisi o sonno, giocate la versione Furia, raga, è meglio rispetto a quelli che potete craftare, e quindi, va, andate così, fidatevi di me, sono superiori. Niente, tutto qua in realtà, martelli comunque è una classe di arma molto semplice, in realtà non c'è troppo da dire, ripeto, non sono il top di livello meta, però, comunque, il danno lo fanno se prendono effettivamente il punto debole. Ragazzi, vi ringrazio la visione di questo video, spacchettutto, e noi ci vediamo alla prossima. Bella!